L'arteriosclerosi è la causa del 70-80% di tutte le patologie degenerative come l'angina pectoris, l'ictus e l'infarto, che provoca 120.000 casi solo in Italia, di cui 30.000 portano alla morte. Affronteremo questo importante argomento a Medicina Amica martedì 4 aprile in prima serata con il professor Walter Pierpaoli, lo scienziato famoso in tutto il mondo per la scoperta delle proprietà anti-invecchiamento della melatonina. Nel corso della puntata riflettori puntati anche sui problemi di pressione, glicemia, colesterolo, diabete e novità in campo estetico con le creme anti-aging.